In un momento in cui tante forze e energie negative si stanno scatenando sull'Ucraina attraverso i bombardamenti, i combattimenti, questo è un momento di energia positiva dei giovani romani che attraverso la musica esprimono il loro desiderio di arrivare alla pace. E' l'energia di pace che serve a questo mondo per ritrovare le ragioni del vivere insieme e del superare le logiche dello scontro.